io sto congelando c'è una cacchiera mi devi dire dove devo muovere le pedine credo no non me le fa muovere allora io sono tipo in un cortile di un castello e al centro c'è una cacchiera con tutte le pedine al posto tipo di inizio dovrò muovermi anch'io no c'è dai bro devi trovare qualsiasi cosa per farmi capire meglio c'è una specie di macchinario con una luce rossa lampeggiante luce rossa lampeggiante cosa c'hai io ti dico che sono ancora chiuso nello spawn e non c'ho nulla ma non è che devi andare avanti da qualche parte bro ho tutte le cose chiuse non so dove andare non so che cazzo comunque dovevo muovere io mi sa che dopo il labirinto per cazzo si 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 e dopo 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 si però bro non è che tu mi incolpi per cose io non ho fatto niente perché non posso fare niente che cazzo ridi maledetto ma perché di solito quando devo morire cioè prima dovevo morire io quindi dovevi interagire tu non so che muoio io interagisco io e tu che cazzo giochi a fare no no dai però eh adesso mi fa muovere le piedine sto guardando un film ok ho le piedine pacco ho le piedine ho le piedine ci sei il oi ci sei pacco eh dimmi come devo muoverle ascoltami bene la pedina davanti al re si muove di due in avanti quella bianca quella nera si muove specchiata l'alfiere si muove bianco si muove verso sinistra è un delirio aspetta 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 ripeti perché ripeti dall'inizio perché avevo mostro delle pedine a cazzo la pedina davanti al re si muove di due in avanti la pedina nera davanti al re si muove di due in avanti quindi giocano specchiati poi 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 tu hai liberato un alfiere bianco l'alfiere bianco si muove in obliquo fino a che non abbia una casella libera davanti al pedone bianco no mi ha annullato tutto perfetto pedina 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 davanti al re di due pedina davanti al re di due ed è a posto dopodichè l'alfiere si muove di uno due tre verso sinistra aaaah ok minchia anche il cavallo ma porco ma è difficilissima sta roba non so che cazzo si muove a minchia sta cazzo di scacchia no bro io ho capito tutto allora dopo l'altiere di tre c'era il cavallo vicino cioè il pedone davanti al cavallo di uno esatto campione regina bianca di quanto? regina di due a destra in obliquo poi 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 il cavallo si mette si muove a L e si mette tra i due pedoni che sono uno più avanti e uno più indietro te l'ho spiegata malissimo bro quale cavallo? quello senza pantino davanti o l'altro? hai presente che hai mosso una pedina nera ora? ok la pedina nera il cavallo si muove come pedina nera verso il centro però tra la pedina nera che hai spostato e tutte le altre pedine nere ok poi ok la regina va tutto avanti fino a che non mangia una pedina la regina bianca che è già mosso eh fottiti oggi siamo simpatici eh? ho un libro davanti con dei simboli disegnati quei simboli che erano prima sulla parete ok dimmi che libro hai in mano vuoi... vuoi detti i simboli? no io penso che ora debba utilizzare i libri quindi dimmi... si dimmi i simboli però tanto so già che sono più simboli ce l'ho 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 eh no niente sono morto no mi è morto adesso no niente sono morto sono morto sono morto so che sia al freddo però ci siamo quasi eh porco sono morto ok parti all'angolo occidentale quindi west e quindi è ovest continua a spostarti verso nord ma fai attenzione a come ti muovi e prima dell'ultima tessera devi andare a est fai un passo verso sud e poi dirigiti verso il muro orientale ok poi quindi puoi procedere dimmi che sei vivo ti prego godo come un porco godo come un porco ciao 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 ciao